Adesso assisteremo sicuramente a un Siena che terrà la palla qui nel fondo. Allo scadere della Sirena viene convalidato il canestro di Pignatti direi, quindi il punteggio si chiude per 70-67 per la Melsa. Sì, con il canestro allucinante di Pignatti allo scadere, proventiamo a farlo, ricuttolo. E va dagli Ultras che l'hanno chiusato di... Si prende anche qualche rimprovero, ma Pignatti ha fatto il suo dovere, ragazzi. E' vero, magari ha risultato, però ha fatto calestro e ha risultato con la vitale, non certo per l'occanza di rispetto di 100.